è una bellissima ambra devo dire ambra angiolini ormai ormai si senti ma questo abito da sposare ti ha creato un abito da sposare che significa è un messaggio è un'anticipazione è una notizia no è che tutti gli anni faccio così ormai so che non mi sposeranno mai allora scendo alla scagnata con l'abito non corri nessun rischio assolutamente no va bene ambra ciao un pizzico di romantica